Poi torna all'indietro ancora dalle parti di Falasca, poi si va centralmente, cross sul secondo palo, vanno a chiudere in due e arriva il gol di Cheramizis per la Roma. Anche qui un tocco in zona centrale, pareggia così il gol di Dennis, vediamo ancora qui Cheramizis che riesce a trovare la torsione giusta e pareggia subito la Roma, è stato molto bravo il difensore Greco. Poi allargo ancora...